Buongiorno dal Fallout Campus 2019. Oggi vi spiego. Io spesso trovo nei ragazzi che chiedo ai ragazzi praticamente come mai non studiate i trilli? Allora spesso mi dicono non so il metodo, non ho un metodo, ci sono tante spiegazioni, ci sono tanti metodi, ma nessuno mai va a guardare specificatamente. Io ho cercato di semplificare, dando un consiglio nella mia esperienza, di fare, di pensare ad esempio partire dall'arpeggio di re maggiore. Puoi fare il trillo. Quando arriviamo su una posizione del trillo armonica, dove c'è un trillo con una nota armonica, come in questo caso il Mi, la prima volta io passo dalla nota reale, cercando di far assomigliare l'armonico a quello che è la nota reale. Una volta fatto questo, torno indietro e aggiungo la risoluzione, passando sempre dal semitono. fatto questo lo faccio in tutte le tonalità, cromaticamente. Mi bemol maggiore, Mi maggiore, fa maggiore e così via, fino ad arrivare a si maggiore. Questa è la mia idea, la mia esperienza, è il mio consiglio, che trovo utile perché chi, gli allievi che hanno fatto questo, mi dicono loro stessi, maestro, funziona, grazie. Buon divertimento ancora e buon proseguimento del Fallout 2019. Ciao a tutti. Ciao a tutti.